il più velocemente possibile perché dovreste andare sulle note note, scrivere una cosa dovreste scrivere una cosa per me? ci siete? ci siete? ok, scrivete, scrivete ti amo, virgola no, no, davvero, davvero ti amo ok, virgola sei perfetto virgola ora cambia allora, questo è uno spettacolo teatrale che dovete tenere a mente perché riparteva nella tournée estiva dove Daniele è uno dei protagonisti e vi assicuro che, no, aspettate fatemi finire, io sono andato a vederlo e non mi divertivo così posso confermare i miei colleghi posso, non vi, cioè mi sono fatto le risate che sono a messaggio e da stare male quindi, seguite hanno una pagina facebook e seguite la pagina perché ripartiranno con la tournée e quindi andatevi a vedere mi raccomandissimissimo e consiglio anche